È scomparso Charlie Collin, co-fondatore e bassista della band Rock Train, all'età di 58 anni. La notizia è stata riportata da TMZ. La madre del musicista ha dichiarato al sito americano che Charlie è deceduto in seguito a una caduta sotto la doccia. Charlie Collin, che aveva lasciato i train nel 2003, è morto a 58 anni. La madre ha informato il sito americano TMZ, spiegando che l'incidente è avvenuto mentre Charlie si trovava a casa di un amico in Belgio, dove è scivolato e caduto sotto la doccia. Il percorso di Charlie Collin con i train. Dopo aver frequentato il Berkeley College di Boston, Collin ha visto una svolta nella sua carriera musicale quando ha incontrato a San Francisco i futuri membri dei train, il cantante Pat Monahan, il batterista Rob Occhkis, il chitarrista Jimmy Stafford e il batterista Scott Underwood. La band si è formata nel 1993. Tra i loro brani più noti ci sono Drops of Jupiter del 2001, che ha anticipato l'omonimo album, e il singolo di debutto Meet Virginia. Con Drops of Jupiter hanno vinto due Grammy Awards nel 2002. L'abbandono dei train da parte di Collin nel 2003. Collin ha lasciato i train nel 2003 a causa di una dipendenza da sostanze stupefacenti. Era un bassista straordinario, ma soffriva molto, e il suo modo di affrontare la situazione era doloroso per tutti intorno a lui, aveva dichiarato all'epoca Pat Monahan. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, lo stesso Monahan convocò una riunione della band per decidere tra lui e Collin. Ci sono state molte ragioni che mi hanno portato a lasciare, ma la situazione era diventata davvero insostenibile, aveva spiegato Collin l'anno scorso a Delphins Circle parlando del suo addio al gruppo, di cui fece parte per un decennio. Di recente, Collin si era trasferito a Bruxelles dove insegnava musica al conservatorio e stava componendo musiche per un film.